Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video calcio mercato del Napoli, ciò che bolle in pentola, ciò che è successo in queste ultime 48 ore ne parleremo in questo video, tratteremo Kilman per il quale il Napoli tenterà l'affondo richiesto comunque anche da Rudy Garcia, parleremo di Demme, allerta Berlino non si sblocca la situazione perché a quanto pare i 6 milioni richiesti dal Napoli sembrano troppi, parleremo di Zelischi e la rabbia, ci sono aperture per il rinnovo eccetera eccetera ne parliamo in questo video, prima di cominciare ovviamente ragazzi un like a questo video se vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella, sono operazioni che richiedono qualche secondo ma a me aiutano tantissimo a sprizzare l'algoritmo e a crescere insieme a voi sul canale e non smetterò mai di ringraziare tutti voi per ciò che avete fatto e state facendo e mi auguro continuerete a fare su questo canale partiamo dal difensore, partiamo da Kilman sfumato Itakura Itakura sembrava vicino al Napoli, l'entourage confermava eccetera eccetera è sfumato comunque il colpo del giapponese il Napoli proverà l'affondo a Max Kilman richiesto anche da Garcia parleremo un attimo del difensore perché i paragoni con il giapponese secondo me non si possono nemmeno fare sia per le caratteristiche che sono diverse tra i due difensori, tra Itakura e Kilman e sia per il prezzo perché comunque Itakura sarebbe stato un difensore che portava a Napoli con 15 milioni lo portava a Napoli per Kilman servono comunque sopra i 30 milioni 30 milioni è il valore di Transfermarkt ma si legge che il Napoli dovrebbe affondare il colpo con un'offerta intorno ai 35 milioni speriamo che vada in porto perché poi la grana del centrale più andiamo avanti e più diventa difficile poi se vogliamo anche dire la nostra sul fatto che il Bayern ancora pagare moneta ma il cammello l'ha già visto quindi vediamo di accelerare questi tempi domani scade il termine per pagare la clausola di Kim non sono uno che cavalca questi sogni nel caso il Bayern non dovesse pagare la clausola e Kim tornerebbe a Napoli perché credo che alla peggio venga pagata domani negli ultimi termini possibili quindi parliamo di fatti reali e parliamo del difensore che deve sostituire il coreano Kilman secondo me sarebbe un grande colpo anche in vista al gioco di Garcia perché mi spiego allora prima avevamo Rachman e Kim avevi il centrale che in fase di impostazione e i piedi erano migliori centrale completo anche a livello di marcatura e senso della posizione parliamo di Rachmani dall'altra parte avevi il mostro in marcatura in anticipo che aiutava tutta la linea difensiva però in fase di impostazione di piedi Kilman secondo me assomiglia più a Rachmani scusate Kilman si assomiglia più a Rachmani che a Kim perché andatevi a vedere gli highlights io lo dico sempre così possiamo avere un raffronto visivo su ciò che vi sto dicendo Kilman in fase di impostazione ha un senso spiccato dell'essere più regista non voglio dire che è come un regista di centrocampo però il sinistro è precisissimo cambi di gioco super precisi lancia a scavalcare la linea mediana avversaria per servire gli attaccanti che sono veramente al bacio e messi sui piedi di laterale offensivo o di punte centrali quindi ti ritroveresti a Napoli con due centrali molto simili e che possono offrire una soluzione in più secondo me per quanto riguarda il gioco di Garcia quando viene attaccato quando viene preso alto prima avevi solo Rachmani che riusciva a impostare e riusciva comunque a trovare una soluzione tra le linee a livello di passaggio adesso hai una doppia soluzione quindi nel caso ti viene oscurata la linea di passaggio quando Rachmani porta il pallone hai l'altro centrale che può fare la stessa cosa e di conseguenza è il mio punto di vista ovviamente tattico non sto qui ad insegnare tattica anche perché non ne ho le capacità parlo solo per esperienza di partite viste calcio giocato e ovviamente lettura tattica ma che posso avere io per quanto riguarda le partite che vedo tutti i giorni avresti una soluzione in più e avresti una linea di centrocampo o almeno il regista in questo caso Lobottica che secondo me deve fare meno fatica nel venirsi a prendere il pallone sulla linea dell'area di rigore perché prima quando Rachmani aveva il pallone e venivi attaccato alto Lobottica doveva comunque dettare i tempi nella ripartenza dell'azione veniva andava ad aiutare il centrale che impostava in questo caso hai l'altro centrale che imposta quindi si può tranquillamente alzare un attimo la mediana e cercare di scavalcare comunque gli attacchi avversari anche con palle lunghe perché ripeto Tillman è precisissimo in fase di impostazione che ha un sinistro che è fantastico poi non si discute il senso dell'anticipo la marcatura la pulizia di interventi è un difensore dato per prendere sicuramente una spanna sopra Itacura ma lo dice anche la valutazione di mercato quindi un centrale che per il calcio di Garzia farebbe veramente al caso nostro ovviamente non non è scontata nemmeno la richiesta dell'allenatore perché è una richiesta di Garzia il centrale inglese vedremo non vedremo se il Wolverhampton si accordi con le cifre e riusciamo a prendere questo centrale difensivo quanto prima che comunque si parte per Di Maro stasera e dobbiamo piazzare gli acquisti dove ci sono i vuoti non voglio non voglio dire con questo che il Napoli deve comprare sei calciatori perché il Napoli deve solo puntellare dove c'è bisogno la situazione Zialischi oggi si legge che il calciatore vorrebbe rinnovare rifiutando un'offerta faraonica dall'Arabia Saudita 25 milioni a Napoli e 12 milioni all'anno per 3 anni a Zialischi io appoggio la scelta di Zialischi nel caso voglia partire ad andare in Arabia ma nel caso rimane a Napoli sono contento uguale perché parliamo di un centrocampista che lo vorrebbe mezza serie A è un centrocampista completo Zialischi nell'ultimo anno ha fatto benissimo a Napoli ma è sempre stato in crescita a livello esponenziale è il raccordo tra centrocampo e attacco per eccellenza quindi nel caso rimanga tanto di guadagnato per il Napoli se dovesse partire il Napoli comunque sta sondando Samarzic Copmeiner Samarzic ci sarebbe il sostituto naturale forse per quella cosa di raccordo tra centrocampo e attacco e dal punto di vista del tiro da fuori forse ha anche qualcosina in più o almeno ci prova molto di più lo abbiamo visto nelle ultime uscite della carriera di Samarzic ovviamente poi bisogna vedere nel contesto cosa il mister richiede dove vai a giocare eccetera eccetera però vedremo io mi auguro che Zielischi rimanga a Napoli perché sono affezionato al calciatore in primis secondo è un calciatore che farà sicuramente bene anche l'anno prossimo non è un calciatore che hai scoperto quest'anno che ha fatto l'annata e non sai l'anno prossimo se ti rende uguale Zielischi è da un bel po' a Napoli e sappiamo perfettamente di che cosa è capace a livello tecnico gli stessi compagni di squadra e addette ai lavori dicono che nella rosa del Napoli tecnicamente non c'è nessuno che possa eguagliare le qualità di Zielischi quindi già solo questo mi fa stare bene nel caso non dovesse accettare le sirene arabe per il fatto di teme sembra che il Napoli quando debba contrattare per vendere qualche calciatore o ricevere soldi soprattutto dalla Germania sembra che il Napoli sia una società da snobbare a quanto si legge le ultime notizie sono stati rifiutati i 6 milioni che il Napoli richiede per il cartellino di teme che non mi sembrano praticamente non mi sembra niente una richiesta del genere 6 milioni per un calciatore che ovviamente ha giocato pochissimo a Napoli e siamo d'accordo però in un'erta a Berlino puoi tranquillamente dire la tua 6 milioni non so proprio niente quindi se non vogliono accettare ce ne faremo una ragione poi c'è anche da dire che l'erta Berlino è un club che al momento non versa in condizioni economiche brillanti quindi ci sarà anche sarà soprattutto credo la causa sarà soprattutto il bilancio della squadra i conti da mantenere a posto eccetera eccetera però se poi non si hanno nemmeno 6 milioni per poter piazzare un acquisto allora cercate dai rivai cercate da un'altra parte e prendetevi un altro regista vedremo poi i temi che fine farà e se si riuscirà a trovare un accordo a me dispiace per il calciatore che poi si trovi un altro anno a non dover giocare che sicuramente poi dovresti essere il sostituto di Lobottica ma non ci ha puntato quasi nessuno negli ultimi anni a Napoli quindi qualche cosa a livello tecnico e qualche deficit c'è ed è evidente altrimenti gli allenatori che sono passati da Napoli ci avrebbero puntato sicuramente di più poi hai un Lobottica che diventa insostituibile e diventa difficile giocare è un calciatore che deve ritrovare la condizione sicuramente e il feeling col calcio giocato e la continuità quindi c'è bisogno di piazzarlo vedremo se andrà in porto la situazione ed M mi auguro che abbiamo svolte soprattutto a livello dell'acquisto del difensore nelle prossime 48 ore perché lo ripeto e lo ribadisco l'ho detto già in qualche video che ho fatto qualche giorno fa bisogna avere la linea centrale ufficiale quanto prima disponibile per poter appunto vedere se a livello tattico i due centrali si si amalgamano alla grande se ci sono caratteristiche che possono compensare i deficit dell'uno e dell'altro quindi una sorta di compensazione diciamo tra i due calciatori centrali in qualsiasi difesa per me dal mio punto di vista diventa fondamentale questo era quanto ragazzi sempre forza napoli restiamo aggiornati sui contenuti ripeto attivate la campanella perché così ogni qual volta carico qualcosa vi arriva la notifica e restate aggiornati anche voi vi auguro un buon venerdì sempre forza napoli ciao